Vuoi crediti per giocatori come questi? FIFA Queen's Home Trovi link e codice coupon qui in descrizione Salve a tutti ragazzi, belli abiti più di tutti Bentornati su GVH di Spoi Io sono GV Spoi e questo è un nuovo episodio della serie Rotoglore Iniziamo questo episodio con l'acquisto di numerosissimi contratti Almeno 17, 16, 15 contratti Da 201 Non so quanto sia ma 3000 cash Comunque la prima partita è questa Abbiamo una bella ibridozza Con MNIC Allora, contate quante volte ho incontrato MNIC in questo episodio Poi ditemi a fine episodio Ditemi quando avete finito di vedere il video Ditelo nei commenti Quante volte ho incontrato MNIC in questo episodio Questa è una volta Comunque non porterò io il conto Comunque, nel frattempo che ho parlato Ho detto molte chiacchiere Abbiamo fatto l'1-1 Con Alessandrini che ha pareggiato Poi c'è l'espulsione di Miranda Grazie a ciò Grazie a ciò potrò fare il gol con Diavara Il 2-1 si segna Segniamo con Diavara Molto molto bene E MNIC che parte in velocità Non nessuno, non nessuno, non nessuno può prenderlo E infatti segna per il 2-2 Hernández La passa a Sissoko Sissoko La ripassa ad Hernández Hernández in qualche modo Riesce a liberarsi Il tiro Hernández E il cicerito Il pinzellino Hernández Forre come Meggia nel culo Razzo Ha messo il Razzo Ha messo il Turbo Si dribbla a tutti Il tiro a mancino Di Fegulli 3-4-2 Scusate che cazzo di cuore Diavara Migliore in campo Per la sua doppietta Migliore in campo Aversare il portiere E dunque vinciamo la divisione 5-7.000 crediti aggiunti Molto 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 bene Questa è stata la stagione perfetta 6 vittorie e 2 pareggi Nessuna sconfitta Molto molto bene Spero si ripetano altre stagioni simile Anche se difficile Prossima partita Di nuovo E MNIC Dubbia Hulk E altri Il primo gol però Non è nel nostro avversario Ma è il nostro Con Hernández Che riesce a liberarsi Di tutti 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 E è infilata Per il palo gol Per il 1-0 Con Hernández Poi c'è questo Diciamo bug Sì Lo chiamo bug Del calcio d'angolo Con Diavara Che segna Di testa Palla per l'Umbia Do Umbia Corre il cross La testa Di Leandro Castani Che è a presto di tirare Stoppa E Lucas Intanto in secondo tempo La segna Palla in mezzo Per qualcuno Felipe Meno In qualche modo Riesce a prenderlo Poi tira Palla Non velocissima Però Era Era piazzata Molto molto piazzata Quindi finisce così 2-2 Prima partita Di questa stagione Pareggio Prossima partita Abbiamo Ibarbo Emenic Diego Mertens Guarin Felipe Meno E chi altro Vabbè Comunque Palla per Zongo Zongo Il palonetto di Zongo 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 è pagatissimo L'avversario Fa un passaggio Errato Manzo Chi si approfitta Non tira bene Però Zongo C'è di nuovo Zongo 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 Così si chiama Zongo Palla in mezzo Cross Per la testa Di Mathieu Viene parato il tiro Cerci Cerci segna Di sinistro Palla ancora per Cerci E' stato l'assist Di Zongo E' il pallonetto Di Cerci Di destro La chiude qui 4-0 Milione in campo Zongo 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 Bravissimo Zongo 4-0 E' molto molto Bene Una vittoria Un pareggio In questa partita Prossima partita Incontriamo La Cassette Remy Valencia Cabella Nasri Paoligno Colarove Altri che vedrete Nel video Che potete vedere Stoppando Prima gol per Di Sissoko Vedete qua Fa un doppio passo Poi resiste al contrasto E segna Lui Sissoko Mossa Sissoko Cabella In velocità Corre 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 Dove prendere il treno Non prende il treno E fa gol Terza again Neanche si butta Non lo capisco Zongo Passaggio velocissimo Per Turanke Con un tiragino La segna Al trentottesimo minuto Poi Kakata Seconda Kakata Di questa partita Di test again Che permette A Remy Di segnare Il 2 a 2 Molto molto male Turan Serve un passaggio Per Sissoko Sul finire Della partita Sissoko In questa divisione La quarta Quarta divisione Molto molto bene Vittoria Vittoria Pareggio Prima partita Abbiamo Emenic Dombia Musa Questa è l'ultima partita Di questo episodio E questa partita Inizia così Io In questo Questo gol Non stavo giocando Perché? Perché è andato al bagno È andato al bagno Quando Aung viene Viene Va E va al bagno Però non Vabbè E fa un gol E va bene Poi inizia a giocare Però mi segna di nuovo Con Emenic E con un tiro A giro di Emenic A quarto minuto Subitissimo dopo E Musa ancora Per Emenic Che segna Segna Al primo tempo Già stiamo 2 a 0 3 a 0 Scusate Ed è male 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 Mazzukic Però Tira due volte E segna E siamo sul 3 a 1 Ragazzi Me non è detta qui Perché Hernández Riceve questo 1-2 Insieme al suo compagno E poi con un tiro Che è uscito dal cilindro Come un coniglio È uscito dal cilindro Va bene così Mazzukic Atterrato in aria Di rigore Sarà calcio Di rigore Sul finire della partita L'ottantasettesimo Un calcio di rigore Che cosa L'ottantasettesimo Un calcio di rigore Deve andare a Mazzukic A battere Ma vedo che Sembra alquanto nervoso Perché la stanghetta Va troppo veloce E decidi Di far andare Hernández Ed è una saggia decisione Infatti Perché la segna Così Hernández Migliore in campo Hernández 9,8 Quasi vicino alla precisione Pareggio Il rimonta Rimonta Pazzesca Dunque l'episodio Termina qui Se ti è piaciuto Lascia un pollice Alle su Ci vediamo domani Ciao 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 Ciao